Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata come leggete nel titolo è The Witcher 3 Wild Hunt per la prima volta farò un gioco single player diciamo e userò questo coso qua è un joystick da Razer, io non ho mai giocato col joystick dai tempi della Playstation 1 quindi vedremo se distruggo tutto o riuscirò a giocare Ciao ragazzi benvenuti in The Witcher 3 Wild Hunt e iniziamo ho già filmato la figata questi ragazzi sembrano già belli incazzati oh mamma no che figata ma no che figo c'è flashback prima e dopo no 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 beh sto filmato già promette bene che grafico mica che f... mamma mia che grafica sto usando una GTX 970 per far andare a sto giochino ovviamente quasi tutta paletta non quasi tutto però la maggior parte dei settaggi si qualcosa dove gli sta entrando eh in quel posto no E' una morte con quei occhi Quindi, dopo allora Dai che vogliamo giocare. Finalmente c'è il vestito, il tizio. Questa è sempre biotta. Sì, deve che gli piace andare col giro al culo all'aria. Magicamente se è vestito. Ok, fantastico. L'introduzione è lunga. Beh, allora, come prima cosa sembra bello fluido. Cosa posso fare? Spegni. Dai che figata. Vabbè, non è vero. Vabbè, pensavo che Ciri potrebbe aspettare un po' di tempo. È un'instituzione, non per nemmeno che non riuscita. Va bene. Sì, è meglio andare a vedere Ciri. Voi entrare con lei, e poi tornare. Ci sarà una possibilità di mettere la faccia. Di tutte le donne che ho conosciuto, sei l'unica che ha fatto questo prima. Hai conosciuto molti. Che cosa importa? Che cosa ha fatto? Allora, dobbiamo andare da statizia Va bene Ah, devo scendere Va bene ragazzi, scendiamo Ci vediamo giù perché sarà una lunga camminata Eccoci qua Questo sarà a dormire Comunque però ragazzi La grafica è fluidissima, spettacolare Mamma mia Speriamo che nelle zone Con un sacco di NPC Non laghi Peccato che non ci sono i dialoghi in italiano Anzi, sapete come si mettono? Perché c'è solo un sottotitolato Quante volte mi devo dire? Non trainate solo Non, non ci sono No, 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 no. Va bene. Pensa te. C'è cose da tutti i giorni. Fantastico. Fantastico. Oh. Big fail. No, non so. Non sei in un circo, pirouette. Fai. L'arrivo. Certo. Sì. Con un flippo? cosa pensi? ok, prendi la scuola hai lavoro da fare, i tuoi reflexi sono ancora lenti credi che i drowners o strighe saranno facile su te perché non hai avuto le mutazioni? anche se nei tuoi scopi vorrei che Vesemir sia più di un strighe disovedendo le sue instruzioni? non vero no, sì, ma... ma è vero vero, e tu sai che non hai scopo scopo, non succo non succo scopo non è abbastanza buono tu vai leggere i ghouls e alghouls all'interno non, per favore vorrei riportare le stabli fin di discussion vieni, facciamociare con gli altri l'interno è sotto facciamo questo tutorial e vediamo che cosa... saliamo ma che cazzo vai su a uso ma è incoglionito dai dai oh ma mi stai prendendo per il culo scala non capisco vabbè ragazzi siamo usciti a salire dai dai bimbo dove cazzo ci stai portando? si, ciao ok abbiamo fatto tutto questo casino per fare quattro passi da merda ok questo gioco la spada a me piace di più questo è incazzato c'è una faccia a mezza distrutta c'è una faccia a mezza distrutta c'è qualcosa da dire per te mia moglie? sono molto scusate cazzo il sangue ha iniziato capito ma quando combattisci un uomo il知識 si tratta di più di una sorda almeno vuoi essere capito di dire un ghoul da un ghoul con le signori con le signori con la tigra panthera che in Derecania e con la maldita della sua visita quindi hai scelto le scelte ancora dovresti aver chiesto se ma sei ma sì dai quindi hai scelto la scelta ma non 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 è bravo vogliamo combattere dai su fatemi su fatemi combattere partiamo dalle basi va oh finalmente che cazzo devo fare ah premi ok quindi x attacco rapido questo attacco potente b e schiva selezione il bersaglio b per schivare va bene figo scudo protettivo seleziona figo eh fai culo ma minchia sembra di stare in sky eh molto simile proviamo questo vediamo un po' influenza la mente degli avversari diventa rincoglionito va bene e l'ultimo attrappa la magica ah quando va dentro si blocca questo che cos'è bomba evidenzia una bomba con bla 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 rb che figo ok basta ciao piccolo lag e se ne va ciao ciao bimbo dove cazzo sta andando dove cazzo sta andando quindi abbiamo visto i combattimenti abbiamo visto i movimenti quindi piccolo tutorialino iniziale ci sta ha trovato quel elmo si sto cazzo per me arriva un mostro si andiamo avanti che cazzo sangue ma non è un fantoccio ah sti cazzo che cazzo ci fa una nave qua figo wow va bene ragazzi grazie per essere stati qua in questa prima puntata e alla prossima ciao ciao